Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua, eh, significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino? Ma dico... Ma le otto e mezza? Ma io ho fame, te lo c'è... Ugo, è incinto! Allora, me l'hai detto che... Chi? Di chi? Di chi siamo? Siamo incinti. Poverina, non me l'ha voluto dire, Ugo. E di là, chiusa in camera, ha tanta paura di te, sai?